GF VIP, Pierpaolo Pretelli svela cosa ha regalato a Giulia Salemi i suoi 30 anni poi confessa, lei mi spiazza perché. Pierpaolo Pretelli, in una recente intervista rilasciata a Novella 2000, è tornato a parlare della relazione con l'influencer Giulia Salemi. Già lo scorso sabato, il 32enne di Maratea, ospite a Verissimo, aveva chiarito che la crisi di coppia con la fidanzata è ormai rientrata. Sottolineando, bisognava dare una raddrizzata al rapporto. L'ex concorrente del grande fratello VIP 5 Ettari svelato di aver regalato un anello a Giulia in occasione dei suoi 30 anni. Le ho regalato un anello, non l'anello, ha però precisato, aggiungendo. Parlando delle origini della loro storia d'amore, nata durante la quinta edizione del GF VIP, Pierpaolo ha ricordato. I due, che lavorano entrambi nel mondo dello spettacolo, non sentono competizione l'uno con l'altra. A tal proposito, Pierpaolo ha detto. Lo Schumann ha poi spiegato che prima di entrare nella casa di Cinecittà, già conosceva quella che sarebbe diventata la sua fidanzata. Sul rapporto tra Giulia e Leonardo, il bambino che Pierpaolo ha avuto quasi sei anni fa dalla precedente relazione con la modella Ariadna Romero. Spero che la nostra storia duri all'infinito. Da parte di entrambi c'è la volontà di continuare a stare insieme. Bene, come oggi, ha poi ammesso Pretelli. Intanto, questa sera Pierpaolo sarà tra i protagonisti della prima puntata di Back to School. Il programma di Taglio 1 condotto da Federica Panicucci. Grazie. 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 Grazie.